Ehi, che mi agito quando devo andare a battipaglia, che ci posso fare? Non ti agitare. Lo sai che i cinesi usano la stessa parola per dire crisi e opportunità? Ma tu vuoi abbracciare il tuo figlio? Sì, sì, sì. Non ci credo, fatemi vedere. Pagliama. Signor, stiamo parlando di una persona di 99 anni. Prima o poi, purtroppo, eh, esatto. Ehi, dottore, ma che state dicendo stamattina? Mamma, la nolla è viva e qua ci sta una cazzo di bara. Quando sarai? Me l'è giusto io, la nognina. Libero. Non ti interessa, no, di sapere se il tuo figlio ha incontrato... Sono neve. Neve. Te la ricordi? Ma tu lo sai che mi sono sposata, ha fatto una figlia, mi sono separata. Io conosco marito, eh. Ti stai vedendo con qualcuno, eh? No. Ma non mi dire che sono tutte rose e fiori, perché non ci credo. Te lo dico semplicemente così la prossima volta stai più attento, ne metti meno. Ma io non voglio stare attento! Mi dici? Tanti. Sesso? Poco. Sei proprio una maiale. Cosa? Ma mi sei arrivato? Ma, resta un po', ti rilassi. Ma è pieno di polvere, ti viene l'allergia. Allora me l'aggiussi la chitarra che mi serve. Siente che riffa, sì. Ma che devi fare con sta chitarra? Mamma, senta. Questo è il pallone maradona, questo è il pallone del primo scudetto del Napoli. Non possiamo vedere. Non sia mai la maronna. Guarda che la colpa è di tutto e due. Non è questione di colpe. Non sono felice. E dai, è che stasera Franceschina sia ubriaca! Un po' di crisi. Ah, quindi di opportunità. Tu la scelta ce la vedi, è il coraggio che ti è mancato. L'audace è una cosa che se non la coltivi, si consuma. E ti consuma. Un po' di crisi. Grazie per la visione!